Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna TR24 da Andrea Raggini. Anche la giornata di oggi ha visto un inizio soleggiato con temperature molto alte nel pomeriggio con picchi fino a 31-32 gradi sulle pianure centrali, valori tipici del mese di giugno. La situazione però nelle ultime ore sta cambiando, infatti aria più fresca da est sta sfiorando la nostra regione e determinerà tra la sera e la notte la possibilità di rovesci e di isolati temporali specialmente lungo la costa tra Ferrarese e Romagna. La giornata di domani inizierà quindi con addensamenti più consistenti sull'Appennino e sulle aree orientali tra Ferrarese e Romagna e dove qualche veloce rovescio al primo mattino non sarà da escludere soprattutto sulla bassa Romagna, ma le schiarite aumenteranno in fretta tant'è che tra tarda mattinata e pomeriggio il sole prevarrà sulle nuvole su quasi tutta le mina Romagna. La ventilazione aumenterà tra la sera e la notte, sarà ancora moderata al primo mattino sulla costa, poi tenderà a diminuire, il mare sarà poco mosso. Temperature in lieve calo nei valori massimi compresi tra 21 e più 27 gradi, i valori minimi invece saranno compresi tra 11 e 17 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.